In questo video viene presentato lo svolgimento della prova di maturità del 2018 nella materia economia aziendale. La prima parte che viene sviluppata è la parte cosiddetta obbligatoria che riguarda principalmente il bilancio. Vengono presentati una serie di dati tratti dalla relazione di gestione sulla gestione 2016. Abbiamo qui una sintesi di tutti i dati che sono leggibili nel testo Capitale sociale, attività tipica, area di vendita, prodotti, investimenti effettuati. È previsto un incremento nell'industria italiana, quindi non in questa azienda particolare ma nell'economia, di 1,8% anno nel settore nel quale è inserita l'azienda di nostra competenza. L'andamento di gestione, diciamo, a consuntivo per quanto riguarda il valore della produzione e il risultato prima delle imposte viene dato dal testo. Le vendite realizzate sono state ripartite in base alle regioni e in base al percentuale di sfruttamento delle live. Ecco cosa prevede la relazione di gestione nel 2017, che è l'anno che verrà, quindi un consolidamento dei dati positivi degli ultimi due esercizi, un incremento delle vendite del 2% e poi la realizzazione di alcuni obiettivi, ampliamento della clientela, penetrazione in nuovi mercati, lo sfruttamento totale della capacità produttiva, l'acquisizione di alcuni impianti, l'assunzione di personale qualificato. Ecco che la richiesta, cosa viene richiesto? Il candidato, dopo aver analizzato quanto riportato nella relazione sulla gestione, traga gli elementi necessari per redigere lo stato patrimoniale e il conto economico al 31.12.2017 di Alfa S.P.A. da quali emerga il parziale raggiungimento degli obiettivi prefissati. Bene, quindi il 2017, che è qui in stato previsto, deve essere presentato come bilancio in forma definitiva. Ricordiamo che questo file è scaricabile da questo sito. Cominciamo a considerare gli aspetti tecnici della costruzione del bilancio 2016 per poi andare a completarlo nel 2017. Nei vincoli, se abbiamo letto con attenzione, non sono presenti indicatori di bilancio, cioè indici. Quindi per ora conviene utilizzare gli schemi di bilancio senza utilizzare quelli previsti dal codice civile, senza per ora utilizzare schemi riclassificati che possano avere un riscontro con gli indici. In giallo si trascrivono tutti i dati che sono stati puntualmente precisati dal testo. E sono il capitale sociale, come si vede. Poi abbiamo altri dati nel conto economico e li vedremo successivamente. A questo punto bisogna iniziare la costruzione del bilancio. Questo verrà fatto in base ad alcuni passi. Il primo passo è che si determina il patrimonio netto come seible. Allora, il patrimonio netto è dato al capitale sociale più le riserve e più l'utile. Quindi qui c'è un primo dato che viene, come dire, dato a scelta da noi. Si suppone che le riserve siano pari a 20.000. Pertanto il capitale proprio, capitale più riserve, è 3.020.000. L'utile lordo dato dal testo è 523.000. L'utile lordo sarebbe l'utile prima dell'imposto. Allora, supponiamo una liquida media IRPEG e IRAG di 35% e ricostruiamo l'utile del netto calcolando le imposte, cioè l'utile lordo 523 per 35%, e otteniamo 339.000. Quindi andiamo a illuminare questi dati e possiamo già calcolare un primo totale. Il patrimonio netto è 3.359.950.000. Bene. Il secondo passo si determina il totale degli impieghi, cioè il totale degli impieghi 2016, che è poi anche il totale dell'attivo e quindi il totale del passivo. Bene. Andiamo a vedere come determinarlo. Usiamo il leverage. Questo leverage, diciamo, è un po' approssimativo perché è dato, è calcolato su dati non rielaborati, quindi il totale dell'attività sul capitale proprio è pari a 2,1. Questo è un dato da noi scelto. Quindi questo è un dato a scelta. pertanto le attività sono il capitale proprio per il leverage. Se andiamo a vedere, il totale dell'attivo viene 6.342.000. e ovviamente anche il totale del passivo. Ne abbiamo un totale generale che ci dà la dimensione di questo patrimonio. Il passo 3 è quantificare le immobilizzazioni pari a 65% e a loro volta si dividono nel 30 e nel 70 tra immobilizzazioni materiali e materiali. non si ipotizzano immobilizzazioni finanziarie. Con questi dati possiamo quindi calcolare i dati delle immobilizzazioni che sono appunto questi. 1.236.690 corrispondono al 30% di 4.122.000 e 2.885 corrispondono al 70. 4.122.000 che è il totale dell'immobilizzazione corrisponde al 65% del totale dell'attivo. Il passo 4 è determinare rate risconti che vengono sempre messi in misura molto ridotta e lasciando un piccolo vantaggio dei risconti passivi rispetto agli attivi. Andiamo a vedere gli importi. I importi che vengono calcolati in base a queste percentuali molto ridotte. Scusate. Sono percentuali molto ridotte. Effettuato la determinazione delle rate risconti passiamo al passo numero 5. Quello di determinare l'attivo circolante e le disponibilità liquide che sono le ultime due macrovoci rimaste dopo l'assegnazione dell'immobilizzazione dei rate. La loro percentuale è automatica perché se il 100% è il totale, se il 1.342.000 ne abbiamo già attribuiti il 65% nelle immobilizzazioni e lo 0,3 ai rate risconti attivi, ciò che rimane è 34,70 che viene distribuito in questo modo. Vedete che la loro somma dà sempre 34,70. abbiamo già illuminato questi dati che sono esattamente questi qua e se noi andiamo a vedere le somme parziali di immobilizzazione, attivo circolante, disponibilità liquide, rate e risconti, vediamo che la loro somma fa esattamente il totale dell'attivo. Quindi l'attivo 2016 è sistemato. Il passo 6 è riprendere la costruzione del passivo 2016. Fondi, rischi e oneri che sono spesso di importo modesto e sono legati magari alle imposte differenze. Poniamo 12.000 euro. 12.000 euro sono una cifra scelta da noi. Poi determiniamo il TFR, che è una voce abbastanza importante. La prima cosa da fare è determinare il numero di dipendenti. Per esempio, possiamo usare un fatturato pro capita di 250.000 euro e dividendo le vendite totali per il fatturato otteniamo 66 dipendenti. Quindi le vendite totali le avevamo, le avevamo perché erano state determinate le vendite totali erano state indicate suddivise per regioni, ma la loro somma è esattamente 16.700.000. Bene, sulla base di questo dato, diviso 250.000, inteso come vendita per ciascun dipendente, otteniamo dividendo 67 dipendenti. E' nepotizzato che il numero di dipendenti che mantengono il TFR sia 20. Poi dobbiamo anche ipotizzare la attribuzione lorda mensile, media, 1.800 euro, un'anzianità media in anni, 8, e possiamo calcolare in via approssimata il TFR accantonato fino al 31.12.2016 che non è altro che A, il numero di dipendenti a TFR mantenuto, per B, la attribuzione media, che è più o meno quanto matura il dipendente, per il numero dei dipendenti stessi, 20. in questo caso 288.000 che viene riportato ovviamente nel prospetto. Poi possiamo andare al passo 8. Il passo 8 è quello, diciamo, più consistente perché affronta il problema dei debiti. I debiti sono sempre numerosi e vanno dettagliati stando ben attenti a ragionare e a motivare le scelte. Si dettaglia la voce dei debiti, il suo totale è già prestabilito, 2.650.340, perché è un'altra differenza tra il totale del passivo, il patrimonio netto, i fondi rischi oneri, TFR, i rate risconti. Bene, andiamo avanti dicendo che i debiti verso gli istituti previdenziali, poiché i dipendenti sono 67 e si calchiano l'aliquota IMS complessiva di 41.89, bene, moltiplicando la ritroduzione media mensile per due mensilità per 41, si scopre quant'è a fine anno l'importo che si deve pagare all'IMS entro il 16 del mese successivo. Poi abbiamo debiti tributari. Debiti tributari non è possibile come c'è scritto una ricostruzione minuziosa del debito fiscale, quindi si procede per approssimazioni. Abbiamo già fatto questi calcoli, abbiamo già visti per quanto riguarda il calcolo dell'utile netto e vediamo come le imposte di esercizio ammontino a 183.000, il saldo avversario si calcola in circa il 10%, si trascura l'IVA per il suo calcolo che di solito è piuttosto preciso, gli altri debiti comprendono naturalmente i fondi pensione, 47 dipendenti, un'aliquota a fondo pensione del 4% e troviamo più o meno l'importo, l'attribuzione mensile lorda per due mesi, questo per due perché c'è la tredicesima, per il 4%, 6.768, poi si arrotonda per altri debiti a 15.000 e si dà una cifra che comunque deve comprendere i 6.768. I debiti verso i fornitori vengono considerati pari al 110% dei clienti, i creditors clienti sono 946 e questi risultano. Per differenza i debiti verso i banchi sono esattamente 1.475.000 e a questo punto abbiamo più o meno completato il quadro del 2016 di scegliere la tredicesima di scegliere di scegliere